I 6.30 puntuali, ci stiamo dirigendo verso piazza del Campidoglio. Sono arrivato proprio all'inizio della scalinata che a prima mattina è tosta. Aspetta, ve la faccio vedere da qui. Monica, buongiorno. Ciao Mitico, un abbraccio da Verona. Giovina, buongiorno. Ciao Simona. Questa piazza è stata disegnata da Michelangelo. Museo Capitolini. Paolo, buongiorno. Le campane suonano ogni qualvolta viene eletto un sindaco. Un po' come avviene con la fumata bianca del Papa. Non so se il paragone è azzeccato. Emilia, buongiorno. Eccomi ci sono. Quanto sei bella Roma. Quante sei bella Roma, mannesera. L'imperatore Marco Aurelio. Vediamola da vicino. Lia, buongiorno. Tommaso, buongiorno. Tutta l'area del Campidoglio, dopo aver riconosciuto gli splendori della Roma antica, fu abbandonata e addirittura fu ridotta a pascolo di Capre. Poi quando decisero di fare la sede del Comune di Roma, piano piano acquisì migliorie. La sostanza non è cambiata. Prima le Capre stavano fuori e adesso si sono spostate dentro, perdendo il nome di Capre, acquisendo lo pseudonimo di dirigenti comunali. Sto scherzando, ovviamente non voglio offendere nessuna Capra. Sto scherzando, ovviamente non voglio offendere nessuna Capra. Grazie a tutti.